L'idea è nata per passione, innanzitutto, perché appunto io sono un'appassionata, l'altro curatore anche, e quindi siccome io collaboro con il Maurizio Artusi, col sito CucineArtusi.it, lo scorso anno parlavamo di una sua idea che era quella della carta delle birre, e quest'anno invece riflettendo, vedendo appunto che il mondo delle birre si espandeva sempre di più, se ne parlava sempre di più, mi è venuta l'idea, anche perché conosco l'editore Navarra, di poter fare una guida. Quindi prima di tutto ho contattato l'editore Navarra, ho chiesto se poteva interessare questa idea ed era entusiasta, e quindi abbiamo cominciato questa avventura. Il mondo delle birre artigianali appunto si sta espandendo, ma come riconoscere quelle effettivamente artigianali? Beh, intanto c'è la prima guida alle birre artigianali di Sicilia che ci può dare una mano. Poi c'è una legge che è stata emanata dal nostro Parlamento nel 2016 che finalmente stabilisce quali sono i parametri a cui ci si deve riferire per poter definire una birra artigianale. Quindi non deve essere filtrata, non deve essere pastorizzata e il birrificio deve corrispondere a un'azienda autonoma e non deve produrre più di 200.000 ettolitri all'anno. Quindi questi sono i parametri generali a cui ci si deve uniformare. Parametri che erano comunque stati recepiti in passato dalla comunità birraria. Adesso sono legge. Posso soltanto illustrarvi quali sono le caratteristiche principali di questa guida che sono principalmente la chiarezza di esposizione. Quindi non sono stati utilizzati i tecnicismi nella degustazione. Contiene degli abbinamenti che in tanti lettori mi hanno chiesto e poi ci sono due griglie molto comode da consultare con delle valutazioni da 1 a 5 per i singoli parametri. Quindi io voglio sapere quante amara una birra. Sappiamo bene che ognuno di noi percepisce l'amaro più o meno gradevolmente. Io con un numero da 1 a 5 posso capire se quella birra è più o meno amara. Infine c'è un importantissimo indicatore di territorio che ho chiamato trinacrini. Quindi in base ai trinacrini io riesco a capire quanto territorio c'è dentro la birra. Perché la birra si può anche aromatizzare con ingredienti che provengono dal nostro agroalimentare. Fermo restando gli ingredienti base che purtroppo ancora non sono prodotti in Sicilia. Però io posso aggiungere la scorza di arancia, di ribera, piuttosto che la scorza del mandarino di ciaculli, il figo di India e tanti altri prodotti tipici nostri. E quindi quando vado a vendere questa birra anche fuori dalla Sicilia posso fare forza su questa leva potente che è il nostro territorio.